Partito Democratico, presentazione ufficiale delle liste per Camera e Senato. Di scemi questa notte un ingente spiegamento di polizia e carabinieri in assetto antisommossa ha sgomberato i blocchi dei comitati NoMuos. Il commissario straordinario della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fabio Carapessa Guttuso, ha presentato la nuova stagione di Concerti. Bentrovati a questa seconda edizione di Media News, oggi venerdì 11 gennaio. Questa mattina si sono riuniti gli stati generali del Partito Democratico siciliano per presentare le liste dei candidati per la Camera e per il Senato in vista delle elezioni politiche di febbraio tra i big, l'ex direttore di Rai News 24 Coradino Mineo, mentre continua a fare discutere la candidatura di Mirello Crisa Fulli. Le eminenti politiche stanno inevitabilmente segnando uno spartiacque, se non proprio un conflitto interno all'intero apparato democratico italiano. Magistrati e politici navigati, ma anche giornalisti e pezzi della cosiddetta società civile sono scesi in campo, senza badare all'opportunità o meno di alcun gesto. Tra i big, sicuramente Mirello Crisa Fulli e Corradino Mineo, sono stati quelli che già da giorni hanno fatto parlare di sé. E proprio durante la presentazione della lista dei candidati alle Camere e al Senato ha urlato al complotto, annunciando querele proprio Crisa Fulli, il senatore di Enna che dice di sentirsi minacciato da una fantomatica lobby che non lo vorrebbe più in politica. Attaccano mai per colpire grasso, ha detto questa mattina, e continua. Io non sono stato mai indagato, magari solamente intercettato. Ma al centro delle discussioni che si potevano ascoltare questa mattina dei presenti, mentre si aspettava il segretario regionale del partito, l'argomento principe era unicamente quello dell'opportunità o meno di candidare proprio Crisa Fulli. Altro big, nome noto del giornalismo, Corradino Mineo, l'ormai ex direttore di Re News, che dice no al bipolarismo attuale e ringrazia la lucida foglia di Bersani con l'avvoluto candidato per la Sicilia occidentale. Ha parlato molto del suo rapporto con il potere Mineo, anche lui interrogato sull'opportunità della sua candidatura in quanto giornalista. Non ho mai frequentato politici, se non per intervistarli, ha detto. Con Bersani mi ci sarò visto lì in circa quattro volte, di cui una mentre ero in vacanza a New York. Nei prossimi giorni intanto formalizzerà le sue dimissioni dalla RAI e annuncia che comunque è già dimesso da direttore di Re News. Intanto il segretario del partito, Giuseppe Lupo, prova a placare gli animi e dice che per quanto concerne la candidabilità o meno dei suoi uomini, affiduce nella magistratura e nei criteri stabiliti dal partito per potersi candidare. Il PD infatti chiederà solo un'autocertificazione di libatezza ai candidati. Spetterà alla Commissione di Garanzia la verifica successiva. E adesso ascoltiamo le interviste in merito al servizio che abbiamo appena ascoltato. Oltre 100.000 siciliani hanno partecipato alla scelta dei nostri candidati per la Camera, per il Senato, candidature autorevoli, forti, candidature che nascono dal territorio, ma abbiamo anche Pierluigi Bersani capolista alla Camera occidentale, Flaviano Ardelli capolista alla Camera orientale, Corradino Mineo capolista al Senato. Quindi possiamo anche contare su capi lista che sicuramente sapranno rappresentare un valore aggiunto per le nostre liste. Il Partito Democratico che avevamo conosciuto, che avevamo analizzato come sintesi spesso mal riuscita di vari e diversi e non omologabili ceti politici, si è un po' finito con questa vicenda delle primarie per merito di Bersani, anche per merito di Matteo Renzi. A questo punto si scelgono i candidati, si sceglie il segretario, si sceglie il leader della coalizione. Questo ti permette una libertà, che prima non c'era, e anche una rifondazione senza tante chiacchiere, una rifondazione nei fatti. Il Savulli non lo conosco, l'ho visto questa mattina qui, per la prima volta. Io credo nel metodo Bersani e questo è tutto quello che posso dire su questo. Io non sono mai stato indagato in questa operazione, che dicono loro. Sono stato involontariamente, secondo i magistrati, in alcune occasioni intercettato. Siccome non c'è mai stata un'azione penale nei miei confronti da parte della Procura, cosa diversa è il lavoro investigativo dei carabinieri, la Procura addirittura ha chiesto la distruzione di tutte le intercettazioni. Lì c'è una lobby che ha deciso di dimostrare che Grasso ha sbagliato a candidarsi con il PD e per cui sta facendo di tutto per mettere in imbarazzo noi, me, Grasso, il partito. Io credo che non ci si possa piegare a questa logica del recatto messo in atto. Si attacca lei per colpire Grasso? Si attacca a me per colpire me, Grasso, il PD, tutti. Non possiamo accettare questa logica del recatto. Per quanto riguarda la composizione delle altre liste, in casa Udc il leader regionale Giampiero D'Alia dovrebbe essere capolista in entrambe le circoscrizioni alla Camera. In Sicilia occidentale dovrebbe essere invece candidato in un posto blindato Andrea Piraino. Nel collegio della Sicilia orientale invece sono tre i nomi più quotati. Il rettore dell'Ateneo catanese Antonino Recca, il senatore uscente Giovanni Pistorio approdato all'Udc dall'MPA e il messinese Rosario Sidoti. Nella lista Monti in Sicilia orientale scelta civica dovrebbe schierare il capolista l'imprenditore Edile Andrea Vecchio, anche lui ex assessore regionale. Ancora incerti gli altri nomi. Resta alta invece l'attenzione in Flì dove i tre deputati regionali uscenti in Sicilia, Marrocco, Aricò e Gentile, resterebbero fuori dai posti che contano in lista e si è paventata persino l'ipotesi di una loro possibile uscita dal partito. Cambiamo argomento. Niscemi, questa notte un ingente spiegamento di polizia e carabinieri in assetto antisommossa ha sgomberato i blocchi dei comitati non-MUOS per consentire il passaggio del convoio con la gru necessario alla costruzione del radar militare. Vediamo il servizio. Il ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, era stata nei giorni scorsi abbastanza esplicita. Non sono accettabili i comportamenti che impediscano l'attuazione delle esigenze di difesa nazionale. Il riferimento era alla mobilitazione contro il MUOS, il radar satellitare, che in realtà è della Marina Militare degli Stati Uniti e che deve essere realizzato vicino Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La notte scorsa, così come riferito da un dettagliato resoconto del comitato non-MUOS di Niscemi, centinaia di poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa hanno sgomberato i blocchi stradali organizzati dagli attivisti per impedire il passaggio del convoglio formato da quattro camion e due grosse autogru che servono proprio all'installazione delle parabole del radar. I non-MUOS riferiscono che Niscemi veniva invasa da decine di truppe di polizia e carabinieri che hanno effettuato innumerevoli posti di blocco nei punti nevralgici di transito verso la base militare, non permettendo il passaggio delle persone, creando numerose difficoltà anche ai residenti. All'1.30 di questa notte il primo contatto tra manifestanti e forze dell'ordine incontra da Gallo. Nel loro comunicato in OmuOS raccontano che i manifestanti ripetutamente si opponevano con il corpo al passaggio dei mezzi pesanti in maniera pacifica, ma le forze dell'ordine incitate dai capi dell'operazione non rinunciavano a utilizzare le maniere forti. Alle 4 del mattino altro blocco stradale, altro sgombero da parte delle forze dell'ordine, le quali, ribadiscono i OmuOS, non hanno esitato a utilizzare le maniere forti per rimuovere fisicamente i singoli manifestanti. Durissimo il commento del comitato OmuOS. Con la forza lo Stato ha voluto impedire che la popolazione che ospiterà questa installazione decida se accettare o meno il prezzo da pagare in termini di salute, pace e inquinamento. E' un atto di prepotenza inaudita e il comitato annuncia che prossimamente verrà indetta una grande mobilitazione nazionale. Il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, è intervenuto sulla vicenda del MuOS. I siciliani sappiano che il governo regionale non farà alcuno sconto sulla salute dei cittadini, ha detto il governatore. Nel giro di qualche giorno il provvedimento di sospensione dei lavori della messa in mora dell'esercizio dell'impianto MuOS a Niscemi sarà emanato per cui a nulla servono forzature di stampo autoritario per imporre alla Sicilia strumenti che potrebbero essere collocati in aree più idonee dove non ci siano rischi per la salute dei cittadini. Sosteniamo con forza la decisione del presidente della regione, Rosario Crocetta, di sospendere i lavori per la realizzazione del MuOS, la stazione satellitare della Marina USA a Niscemi, così come chiesto dalla mozione del Partito Democratico approvata all'Assemblea regionale siciliana. Lo ha detto il segretario del PD siciliano Giuseppe Lupo che ha aggiunto è necessario che chi si ostina a difendere le ragioni della costruzione della stazione satellitare dimostri che la stessa non comporta rischi per la salute della popolazione e per il traffico aereo. Stop alla violenza sulle donne. Contro l'omicidio delle donne occorre la prevenzione e la cultura di genere. Ascoltiamo Valeria Ajovalasit, presidente di Arcidong. Nel 2012 sono state 155 le donne uccise per mano del marito, dell'amante, del fidanzato, dell'amico, del compagno, eccetera. Questo ci raccontano, come posso dire, gli omicidi nei confronti sulle donne sono alla punta dell'iceberg di un malessere, di un problema non risolto. E' il problema tra la relazione dei generi, cioè esiste un problema serio dal punto di vista culturale, della formazione, della sensibilizzazione rispetto al rapporto tra i uomini e le donne. E' un rapporto che da un lato provoca, non riconosce e riconosce malamente, cioè lo accetta malamente, il profondo cambiamento delle donne. Le donne italiane sono cambiate, sono cambiate perché hanno modificato, sono cresciute e hanno preso consapevolezza di sé. Quello che non è successo in Italia è che non sono cambiati gli uomini. E quindi nella relazione tra gli uomini e le donne si entra in conflitto, cioè c'è un meccanismo che poi alla fine va in tilt. Nel tilt ci sono le punte di quell'iceberg che si manifestano con azioni violentissime, come il caso massimo dell'omicidio, ma dietro a questo ultimo livello ci sono tanti livelli molto più bassi che nella società attraversano i ragazzi e le ragazze e che a volte non si riconoscono. Allora il tema è lavorare nelle scuole, cosa che noi facciamo di Arcidona ha molti anni, ma lo dobbiamo fare e bisogna farlo in maniera sistemica, cioè mettendo a sistema nella scuola italiana il problema delle relazioni, cioè facendolo diventare un modo per far crescere, far cambiare sin dalla scuola materna. Quindi lavorando già con i bambini e le bambine, con i genitori maschi e femmine, padri e madri. Intimidazione ai danni di un distributore di benzina nei pressi della rotonda di via Leonardo da Vinci a Palermo all'imprenditore Agip che si trova tra Viale Regione Siciliana e Via Auditore. Qualcuno la scorsa notte ha collegato attraverso fili elettrici una bombola di gas con le colonnine dei distributori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, indaga la polizia. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. E' arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale, Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Avendo letto la lettera aperta di un gruppo di intellettuali nella quale viene chiesto all'amministrazione di affidare a Franco Maresco la direzione artistica del Cinema de Seta ai cantieri culturali della Zisa, non posso che essere felice di un'ipotesi di collaborazione tra l'amministrazione comunale di Palermo e un artista straordinario come appunto Franco Maresco. Lo ha detto l'assessore alla cultura del comune di Palermo, Francesco Giambrone. Come è noto, continua Giambrone, l'amministrazione qualche mese fa ha deciso di affidare la programmazione del Cinema de Seta a un comitato scientifico. Sare felice se Franco Maresco accettasse di entrare a far parte del comitato stesso in modo da poter contribuire al progetto del Cinema de Seta e dei cantieri culturali alla Zisa. Dopo aver risolto alcuni problemi tecnici da domani, 12 gennaio e fino al 15 febbraio parte a Palermo, in via sperimentale, il servizio taxi condiviso. Taxi sharing, tale servizio, è rivolto all'utenza che intende condividere lo stesso taxi e a un serimento posti disponibili sull'autovettura, identificabili e con un apposito logo fluorescente di colore giallo applicato sul parabrezza anteriore. L'itinerario del taxi condiviso è attivato sulla medesima linea della navetta AMAT 101 ad un costo di 2 euro per singolo passeggero. Analogamente, è possibile usufruire del medesimo servizio ad un costo pari a 8 euro per un minimo di 4 passeggeri sul percorso Stazione Centrale Politeama Libertà Aeroporto Falcone-Borsellino. E' stato presentato oggi a Palermo il Gruppo dell'Arca, un consorzio tra alcuni festival e manifestazioni di rilievo che si svolgono in Sicilia che vuole rivendicare a gran voce lo stato di crisi economico del settore e la conseguente ipotesi del rischio di sopravvivenza di tutti gli eventi. Ascoltiamo la intervista. Il Gruppo H è un consorzio di 12 festival siciliani che nasce per difetterci soprattutto nei confronti dell'assessore d'altoismo che purtroppo in questi anni è stato assente da molti cialtoni che purtroppo fanno anche lo stesso lavoro nostro e quindi noi dobbiamo prendere distanze anche da loro e quindi nasce per avere un rapporto diretto con l'assessore d'altoismo per dire che non siamo tutti uguali. La presentazione di questo calendario è pure perché vogliamo dimostrare chi siamo cioè ci mettiamo la faccia ci mettiamo tutto e dobbiamo assolutamente dimostrare che le cose possono cambiare perché non siamo tutti uguali. Si è appena costituito il nuovo governo regionale se ci sono delle proposte o delle richieste da fare? Sicuramente quello di poter discutere delle regole insieme in maniera tale che chi ne ha titolo possa accedere e chi non ha titolo abbia il tempo per crearselo e poi eventualmente accedere ai fondi comunitari che sono gli ultimi rimasti evidentemente per il supporto a queste manifestazioni. Nel panorama regionale qual è il valore di questo nuovo gruppo? Noi rappresentiamo sicuramente un indotto che a partire dalle maestranze che sono utilizzate per i festival e a finire tutto quello che crea in indotto turistico di consumi di alberghi di trasporti di manovalanze di vario genere sicuramente non è da considerare come fino a oggi è stato considerato. Il commissario straordinario della fondazione Teatro Massimo Fabio Carappezza Guttuso ha presentato oggi la nuova stagione di concerti ascoltiamolo in questa intervista. Un programma verdiano tre concerti dedicate ad aria verdiane con un uso importante dell'orchestra e del coro l'apertura è del maestro Oren che è a cara conoscenza ai palermitani che non veniva da tempo poi abbiamo una bellissima presenza della Jones che è una direttrice di grande vigore di grande importanza abbiamo una prima assoluta del maestro Betta un Rossini di Campanella e poi naturalmente ci dedicheremo ma ancora il programma non c'è anche alla verdura che sarà uno dei punti interessanti e affascinanti che riporteranno l'attenzione diciamo del massimo anche all'aperto quando è chiuso il teatro Presentati ieri ad Altavilla Milcia presso la sede del comune nel corso di una conferenza stampa alcuni dei progetti varati dall'amministrazione presenti tra gli altri oltre al sindaco Nino Parisi il suo vice Giuseppe Petran Costa l'assessore Vincenzo Lobosco i rappresentanti delle associazioni La Zagara Luna Nuova L'Arco Baleno e dello Sporting Club i progetti sono finalizzati al sostegno della scuola contro la dispersione scolastica e all'insegnamento della lingua inglese Ascoltiamo le interviste Abbiamo iniziato un percorso di fare in modo che ci siano delle attività pari a scolastiche che vengono sovvenzionate interamente dal comune e che sono state istruite attraverso un lavoro fatto con le associazioni locali i quali hanno predisposto dei progetti interessanti che vanno dal sociale allo sport e a quant'altro che può essere utile per i ragazzi della scuola soprattutto per le persone più bisognose e noi saremo da sostegno è chiaro che la cultura deve essere sostenuta i ragazzi devono avere pari opportunità il figlio del ricco perché è più facoltoso ha il diritto di avere l'insegnante privato quando si trova in difficoltà i ragazzi più bisognosi hanno anche il diritto di avere le stesse opportunità e l'amministrazione concederà questa opportunità era appunto intenzione di questa amministrazione portare avanti questi progetti quanto prima possibile perché riteniamo che siano dei progetti fondamentali intanto per quanto riguarda la prevenzione stiamo parlando di progetti che sono di supporto alle insegnanti e alle famiglie e sono dei progetti che vanno contro le devianze infatti i progetti che riguardano la scuola primaria e secondaria dell'istituto comprensivo Monsignor Gagliano sono dei progetti che nelle ore extracurriculari permetteranno ai ragazzi di usufruire del cosiddetto dopo scuola ma non solo perché i progetti riguardano anche nel tramite di queste associazioni che hanno presentato queste idee riguardano anche la dislessia riguardano anche la formazione degli insegnanti e degli operatori che poi andranno a curare i nostri ragazzi e si sono previste anche delle attività ludiche un altro progetto sempre che riguardava la scuola ma che sia anche di notevole spessore è un progetto che riguarda lo sport è un progetto curato dall'associazione Sporting Club è un progetto che riguarda sia l'attività di calcetto che l'attività di tennis ma non è solo un progetto che permette la crescita dal punto di vista fisico e motorio dei nostri ragazzi ma è un progetto che tende all'aggregazione sociale tra i ragazzi che hanno disagi dal punto di vista sia sociale che economico ed è un progetto che appunto per mezzo dello sport sappiamo i benefici che appunto i nostri ragazzi ne possono avere E adesso ascoltiamo l'assessore Vincenzo Lobosco che ci illustra l'evento di domani organizzato dal comune di Altavilla Milicia per celebrare il cinquantenario di sacerdozio del parro correttore Don Liborio Scordato L'amministrazione comunale di Altavilla tutta dal sindaco alla giunta al consiglio comunale è molto attenta ai problemi o alle potenzialità che possono derivare nella società contemporanea dalla cultura da progetti culturali e progetti sociali e in quest'ottica appunto sono stati approvati e presentati alla stampa quattro progetti rivolti alla scuola primaria e dell'infanzia noi giorno 12 sabato alle ore 19 terremo una appunto passando alla cultura una manifestazione secondo me molto importante per Altavilla perché si celebra il cinquantesimo di sacerdozio del rettore Don Liborio Scordato e nell'occasione l'amministrazione ha organizzato una serata per la posa di una scultura monumentale in bronzo realizzata dall'artista Piero Gennaro che è il figlio dell'autore della porta in bronzo che voi che voi conoscete bene e che ovviamente sarà presente alla manifestazione oltre all'autore e a Enzo Gennaro saranno presenti il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Agrigento il professore Francesco De Simone che è un docente di composizione e progettazione alla facoltà di architettura che ha lavorato molto sul sagrato di Altavilla e poi ci saranno altre persone sarà presentata prima una mostra dell'autore dell'opera di Piero Gennaro che sarà installata dentro il salone parrocchiale poi ci sarà la cerimonia vera e propria di scopertura e presentazione alla cittadinanza dell'opera in bronzo che è una reinterpretazione diciamo così contemporanea del nostro quadro e poi a seguire ci sarà un concerto del Trio 900 un trio costituito da un tenore un soprano e un pianoforte che si terrà all'interno del santuario credo sarà una bella giornata di cultura per Altavilla bene questa è l'ultima notizia io vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro buona serata arrivederci la giornata di venerdì 11 sarà caratterizzata dalla presenza di un tesoflusso occidentale delle correnti durante le ore centali della giornata possibilità di piogge anche a carattere di un rovescio di un po' Grazie a tutti.